Pietro Nall'Olmo Ponte come direttore organizzativo? Beh, tanto lavoro perché come si vede questa è una società con tanti ragazzi, tante famiglie, tanti allenatori qui il lavoro non manca, organizzare, far coordinare tutte le cose dallo staff ai ragazzi, ai genitori poi c'è da seguire il discorso sponsor, marketing, c'è da seguire poi anche il rapporto con le istituzioni che è importante, molto importante, il rapporto con la stampa per far intervistare, per far intervenire tutti i nostri allenatori per mettere al centro dell'attenzione quello che è il progetto dell'Olmo Ponte assolutamente, che è un progetto ambizioso, un bel progetto che mi hanno chiamato io non ci ho pensato due volte a venire qui, insomma da fuori si vede un bel ambiente ma stando proprio dentro a contatto con tutti i dirigenti e tutte le persone che ci lavorano vedi veramente la serietà e la professionalità che hanno tutte queste persone e con che passione lo fanno proprio il saper fare è lo sviluppo del calcio giovanile assolutamente, il calcio giovanile qui è fondamentale vedere i ragazzi contenti e vedere sviluppare proprio le nostre squadre, i nostri ragazzi è la gioia che ci deve essere come traguardo l'ha sottolineato anche un certo Ciccio Graziani proprio i giorni fa che i ragazzi arriva col sorriso e va via col sorriso assolutamente, devono arrivare contenti, devono andar via stanchi ma felici e con gioia di tornare da noi e allenarsi è una società comunque che non sta ferma perché nel corso della stagione diciamo loro hanno, hanno sempre messo in calendario tantissimi eventi, tantissimi tornei dove per i ragazzi di tutta l'età insomma, a parte i campionati figi che sono, come dire, da statut, hanno modo sia di confrontarsi con i loro qualitani anche, come dire, di settore giovanile, scuola calcio, di club, di serie A certo, no, no, come dici te, i campionati in primis ma poi anche tanti tornei come l'annunciato a Redium Cup che ci sarà a giugno la ventesima edizione però altri tornei si avvicineranno qui all'interno del nostro campo e del nostro centro sportivo e come vedi anche un campo nuovo in più, questo bellissimo campo insintetico, ultima generazione dove stiamo, diciamo, registrando questa nostra intervista sì, sì, questo è stato realizzato negli ultimi mesi dunque i ragazzi a settembre, oltre due campi in erba troveranno anche questo campo sintetico per le giornate più piovose, più brutte una, come dire, sostanzialmente parliamo di una società a misura di famiglia perché anche le famiglie si possono ritrovare certamente, a misura di famiglia perché abbiamo il nostro bar il nostro club e ristorante dove la sera si possono ritrovare i genitori con i ragazzi passare del tempo insieme passare del tempo insieme durante gli allenamenti e questa è la cosa bella vedere i genitori che parlano, che chiacchiano mentre i ragazzi si allenano perché poi i ragazzi fondamentalmente vogliono correre dietro un pallone assolutamente, loro devono correre dietro un pallone e il genitore è giusto che stia al tavolo a fare due chiacchiere e sì, questa è la gioia che dobbiamo fare io ti ringrazio per la tua decisionabilità e ti auguro buon lavoro grazie Antonio a tutti i tuoi sostenitori